Prosegue l'impegno della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valencia per far conoscere i vantaggi sottesi all'acquisizione dello status di operatore economico autorizzato. L'iniziativa, organizzata con l'Agenzia delle Dogane, tende ad agevolare tutti i soggetti coinvolti nella catena logistica internazionale. L'evento, dal titolo La figura dell'operatore economico autorizzato tra semplificazioni e facilitazioni per le imprese, si è svolto presso la sede pitagorica dell'ente camerale. La nuova normativa prevede semplificazioni per gli operatori commerciali che acquisiscono lo status di operatore economico autorizzato. Si tratta di una certificazione di affidabilità rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, volta a favorire gli scambi commerciali. Le agevolazioni, ad esempio, determinano meno controlli e spedizioni più veloci, ma soprattutto meno costi doganali. La Camera di Commercio intende promuovere il nuovo istituto grazie alla collaborazione con l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Crotone, presieduto da Giuseppe Irrera. Oggi è un'iniziativa che teniamo qua presso la Camera di Commercio, come già abbiamo tenuto in altre Camere di Commercio della Regione, sulla figura dell'operatore economico autorizzato, che è un soggetto che opera nell'ambito doganale dell'import e dell'export e attraverso un audit fatto dai nostri uffici ottiene una certificazione per avere delle semplificazioni e delle riduzioni nei controlli. Il presidente dell'ente camerale, Pietro Falbo, ha fornito alcuni dati sull'export. I dati dell'export calabrese, in particolare quello delle tre province di Catanzaro, Crotone e Vibo, sono incoraggianti perché negli ultimi tre anni sono saliti di due punti percentuali, il 18% nel 2023. Ciò è incoraggiante non solo per il sistema, per il mercato, per il sistema delle imprese e delle aziende, ma è incoraggiante anche per il senso istituzionale che vogliamo dare all'exporto dei nostri territori. C'è tanto ancora da fare. L'Agenzia delle Dogane è al fianco della Camera di Commercio e quindi accanto al mondo dell'economia e del commercio per trovare insieme i momenti normativi più giusti, più adeguati per mettere nelle condizioni delle imprese, le nostre imprese, di essere competitive con i territori.